Salve a tutti ragazzi e bentornati qui su Queddui Sul Joystick Oggi siamo, come potete vedere, outside E siamo qui per dirvi, sono qui per dirvi che Scusate ragazzi, ma devo tenere sempre questo microfono perché se no non si sarebbe modo di sentirvi E siamo oggi qui per dirvi, innanzitutto, due cose Domani, se non domani l'altro Uscirà la recensione Paffanculo macchina di merda Uscirà la recensione di Watch Dogs Perché a me Watch Dogs mi ha veramente, ma veramente deluso Non mi aspettavo, non è che mi ha deluso Watch Dogs Mi ha deluso la Ubisoft Anche se per me era una buona, anzi la perfetta, se li dice Però mi ha deluso In seguito vorrei dire che ora sto registrando Faccio la intro, faccio un po' di text, quindi scritte con foto Come ho fatto anche su video di GTA San Andreas Con Camtasia Studio 8 Però Camtasia Studio 8 è, diciamo, gratis per 30 giorni Io sono già arrivato al 20esimo, 23esimo, sì E quindi non c'è, tra 20 giorni non ho più Camtasia Cioè mi trocherebbe pagarla tanto E quindi ho deciso di comprare Sony Vegas Pro 12 Oppure, insomma, Premium, cose così, 12 Sweet 12 su Amazon Quello 53 euro E da lì, ragazzi, ditemi sotto nei commenti per favore Quello che chiedo per favore veramente Se bisogna inserire il disco Trovate dentro la scatola il disco Lo mettete nel computer di stalla Non lo so, perché è una cosa Lui fa vedere una cosa grande Che cazzo c'è di dentro Se potete dirmi va bene Se non lo chiederò a qualcun altro E comunque, da quel momento in poi Resisterò con Sony Vegas Pro 12 Penso da quando torni dal mare Tra due o tre settimane Inizierò all'interno Intanto si fa tranquillamente con quello Poi dopo vado al mare Vi farò un video per dire Che vado al mare Scusate E semmai arriveranno video Che sono in mare Un pochino nella spiaggia Che mi sdrogheggio con un mio amico Tanto per sdrogheggiare un po' Ma penso che ormai tutti Siete al mare a quest'ora Oppure scenderete Quando vado io Quindi A fine luglio Non avrete bisogno di me Per guardare il mare Comunque Quindi mi scuso Se appena comprerò Sony Vegas Pro 12 Oppure Sweet Premium 12 E cose non vi ricordo Neanche il titolo Farò per esempio Sballerà un pochino l'audio Può essere anche No che capisca subito Come funziona Datemi cioè un pochino Due o tre video Per capire come funziona Per capire i tasti Per capire le intro Per capire un po' tutto Perché se no Ovviamente viene una chiavita E Se mai farò delle prove Per non caricherò video Comunque Quindi ragazzi Se per due o tre giorni Non vedete Merda secca In calore Fregna di mammi Da puntane Se per due o tre giorni Non vedete video Non sapete perché Comunque sia ragazzi Anche se la Ubisoft Mi ha deluso Io la amo Ha fatto Far Cry 3 Ha fatto altre Insomma Ha fatto altri titoli Molto 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 Efficienti Molto belli E quindi Io amo la Ubisoft Credo in Far Cry 4 Far Cry Watch Dogs È uscito molto molto veloce Anche per PC Amo Tutte queste cose Quindi io sono Con la Ubisoft Ragazzi Mi piace molto E La continuerò ad assistere Sempre Che cazzo è passato La mare Mi puttana Mi puttana Mi impanata Con il pane Vabbè Comunque Aiutatemi ragazzi Ditemi come si fa Con Sony Sweet Sweet 12 Premio Che è la merda lì Ditemelo E Ditemi se volete Ancora la serie Di San Andreas Grazie